Buonasera a tutti ragazzi youtube Allora sto pubblicando questo video perchè io a quanto ricordo avevo una questione in sospeso con Zuperto Vare Ma scusare un po' ritardo però Beh il video lo sto pubblicando ora Vare Chi ti sfumetti che io solo con una ballata di una canzone di Minute e Vinti di Shiku Completo Vare stai a vedere Ragazzi youtube conoscete questa canzone? Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Pietro Come ti ho detto prima Vare io mi scuso con te per il ritardo per la risposta del video Comunque Vare Non ho fatto la figura della ricaccato Te l'ho fatto lo stesso Vare c'è di sta sti paganzoni vero? Ah chi mi dice è mia Ha 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 ha